Il tema è sicuramente importante perché noi come Deloitte assistiamo tante amministrazioni centrali e locali nell'aiutarli, nell'impiegare in maniera efficace questi fondi, siamo anche raccordati con il nostro network internazionale, in particolare ovviamente con i colleghi belgi e sicuramente si sono imparate tante lezioni nello scorso ciclo che possono essere messe a frutto per il prossimo ciclo di programmazione, io direi andando in ordine in priorità che sicuramente la più importante è quella relativa alle competenze, noi abbiamo bisogno di una PA che abbia delle competenze migliori, più avanzate, più moderne, che siano capaci di governare e di programmare in maniera migliore la spesa di queste risorse, questo secondo noi è sicuramente l'aspetto fondamentale, tanto è stato fatto con i piani di rafforzamento, con il capacity building, sicuramente questa è la direzione giusta, andrà rafforzata, ma a nostro avviso questa è l'occasione non solo per affrontare il tema dei programmi comunitari, ma per affrontare in maniera sistemica il tema dell'ammodernamento della pubblica amministrazione anche come elemento di sviluppo dell'intero Paese. Mi viene in mente anche di citare altri due aspetti secondo me comunque rilevanti, uno va sotto il titolo della semplificazione, almeno declinato in due modalità, il primo è la semplificazione delle regole, perché sicuramente abbiamo un tema degli aiuti di Stato, abbiamo un'altra tematica afferente alle regole del procurement pubblico, anche qua a me non piace invocare riforme in ogni caso, ma dobbiamo sicuramente invocare l'implementazione anche di strumenti un pochino più snelli che aiutano davvero le persone e la pubblica amministrazione a essere un po' più agili, soprattutto nell'impiego di queste risorse. La semplificazione però ha anche un altro tipo di declinazione, a mio avviso c'è anche una semplificazione nel definire gli obiettivi, nell'essere più selettivi, nel definire delle priorità che siano davvero tali, questo comporta avere anche degli strumenti di analisi e di valutazione che possono portare chi fa policy a prendere delle decisioni e a non disperdere le energie e a focalizzarsi. Un ultimo aspetto a mio avviso va sotto il titolo della concretezza, c'è un tema anche di maturità progettuale dei progetti, c'è un tema di cantierabilità, a nostro avviso una maggiore attenzione andrà posta nel disporre di basket e di progetti che abbiano una ragionevole e concreta speranza di essere cantierabili nell'arco di piano.